Dice, non ho più pace, non ho più pace a te, amore, amore, amore mio, amando pure. Devo integrare e correggere alcune cose che ho detto impulsivamente nei giorni scorsi. Ho letto per esempio che, ho fatto male i conti, per recuperare i miliardi rubati dai corrotti, prendiamo per esempio i 500 miliardi di poggiolini, mettiamo che ne debba restituire 450, mettiamo tutti i 500 miliardi, occorre che lui o altro corrotto faccia il lavoro di portiere dell'albergo al posto del portiere che adesso lavora in televisione per 750 anni. Ho sbagliato, perché ipotizziamo che siano 50 milioni all'anno lo stipendio di un portiere, se siano 50 anni, mettiamo mille anni, fanno 50 miliardi. Quindi per recuperare i 500 miliardi occorrono 7500 anni, cioè circa 10.000 anni, quindi occorre che poggiolini o si metta a fare il portiere per circa 10.000 anni. Un'intera era, un'era dell'umanità, quindi una cosa prima della storia, perché non si vede più, c'era un bellissimo grafico, mi ricordo, in un museo dove sono stato, in che città? In quel museo a Campli, a Campli, a Campli. Andiamo a vedere questo museo in cui c'era, è costruita molto bene, come un'immagine astratta, sarebbe da ricostruire in grafico, una serie di strisce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 strisce, tutte nere, e poi una striscia nera e in piccola parte bianca, che indicava gli ultimi 6.000 anni dell'umanità. Sono i 6.000 anni di cui noi abbiamo consapevolezza storica. Tutto il resto, tutte le altre strisce nere, sono il tempo senza la storia, cioè gli anni in cui l'uomo c'era, ha fatto, ma non ha fatto niente di storicamente così visibile da essere registrato nei libri di storia dell'arte, quindi egizi, greci, la parte della storia è una porzione così piccola rispetto a 10 strisce lunghissime nere di buio della notte, della preistoria, notte di tempi senza storia e senza tempo. Ecco, chi debba recuperare, chi debba ridare i soldi rubati deve risalire fino alla preistoria, verso quel nero dove andando in, figuriamoci, questo soltanto con il Poggiurini, poi ci mettete davanti tutti gli altri, Craxi, Pomicino, De Lorenzo, tutti insieme, arrivano alla preistoria, devono lavorare per 100.000 anni, sempre come portiere d'albergo, lavoro da uno stipendio buono, 50 milioni all'anno, c'è di più, un po' meno, anche meno, allora devono lavorare 10.120 anni. Questo è un fatto matematico. La seconda cosa è che io mi sono dichiarato colpevole della, non tv spazzatura, quello è poco, io sono colpevole di tutto. Qualunque parolaccia voi sentiate è l'effetto sgarbi, radio radicale colpevole.